Dopo l'esibizione dei giovani artisti del Tenco, ascolta e salita sul palco dello spoltore ensemble la Medit Orchestra, diretta dal maestro Angelo Valori con lo special guest Morgan, evento che ha registrato il tutto esaurito, un concerto di grande intensità vocale e pianistica, riproponendo successi personali legati alla sua esperienza con i Blu Vertigo, come Altrove, Celi Neri e Classici della canzone italiana da Umberto Bindi con Rivederci a Tenco, passando per Battiato a De Andrè. I brani sono stati magistralmente riarrangiati da Morgan e dai musicisti del Conservatorio di Pescara per la Medit Orchestra. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco a rivederci. L'artista ha parlato a lungo, fra un brano e l'altro, dell'importanza della ricerca armonica della canzone italiana e della sua grande originalità espressiva e culturale, un patrimonio da tramandare e conservare. Parole di elogio per l'Abruzzo, che lo ha accolto in molti concerti e per la forte empatia della sua gente. Tra l'altro io volevo ringraziare proprio la regione Abruzzo perché in questo mese mi sta ospitando con grande generosità ed è un bel vivere insomma, si vive bene, si mangia bene, si sta bene senza, diciamo così, senza darsi troppe arie. È molto... È una regione empatica. Prossimi appuntamenti stasera, sabato 20 con Tosca e la Morabezza d'estate Gran finale domenica con Guardia Grele Opera, l'Esemfan Terrible di Miriam Ricordi.